Dotolo Mobili, offerta sposi, 40 anni, grazie a voi, ti premia e raddoppia il risparmio. 40 arredatori e architetti ti aspettano nei grandi spazi, in totale sicurezza e serenità. 40.000 metri quadri stupendamente arredati, dedicati alle grandi firme Stosa, Scavolini, Mobile Touri, Lube, Tomasella, Lefablie, Accademia del Mobile, Calligaris e tanti altri. Dotolo Mobili ti premia, raddoppia il risparmio, 50% di sconto sulla merce esposta, più a conto zero, più interessi zero. Solo piccole rate a meno di un euro al giorno, la prima dopo Pasqua, l'offerta termina il 28 febbraio. Fatti furbo, compra intelligente, 50% di sconto, più a conto zero, più interessi zero. La qualità al giusto prezzo. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Bellizzi di Salerno, Teverola, Caserta.